Ciao a tutti, in questo video tutorial andremo a vedere come potrete modificare la pagina della vostra associazione. Se state vedendo questo video vuol dire che la vostra associazione è già censita, ma come sapete voi potete in qualsiasi momento andare a modificare la vostra pagina, anzi dovrete perché più aggiornamenti farete più la vostra associazione apparirà dinamica e attiva. Prima di andare avanti vi ricordo che questi sono i contatti attraverso i quali potrete appunto contattarmi per qualsiasi tipo di assistenza. Diciamo che la mia assistenza non si esaurisce a questo video, potrete comunque inviarmi delle mail o contattarmi telefonicamente. Una volta che siete andati nel portale bachegadallosport.it la prima cosa da fare è loggarsi come si dice in gergo, quindi andiamo a cliccare sul collegamento presente in alto a destra chiamato login e in questi due spazi dovrete mettere il nome utente e la password che vi abbiamo inviato per email in questa maniera e clicchiamo sul login. Ecco come vedete qui in alto a destra accanto logout ho trovato il nome con il quale siete stati registrati, in questo caso genericamente io mi chiamo ASD. La seconda cosa che dovrete fare per modificare la vostra pagina è raggiungerla, quindi andiamo a cliccare sulla voce di menu associazioni, poi andiamo a cliccare sulla disciplina di appartenenza della vostra associazione, per esempio andiamo a scegliere arrampicata sportiva e poi andrete a cliccare sul nome della vostra società. In questo caso per questo video tutorial io ne ho creata una appositamente, ecco qua, questo è più o meno come appare la vostra pagina in questo momento. Vediamo di quali sezioni è composta, vediamo nella parte centrale la maggior parte dello spazio è dedicato alle notizie generali, quindi alle informazioni, ed è questa parte qui. Più sotto troviamo le news della società, più sotto ancora le due gallerie di foto e video, in alto a destra i contatti, qui abbiamo il calendario degli eventi e più in basso i corsi. Nel prossimo video cominceremo a vedere come modificare il testo generale. A dopo! A presto!